Grazie di essere qua a tutti. Il concerto sarebbe finito ora. Allora, avevo pensato di fare un brano, un brano che ho scritto questi giorni e pensavo, siccome tutti i brani che abbiamo eseguito stasera sono nati da un pianoforte in casa, con un po' di accordi, un basso e una melodia, quindi molto semplici, però utile per poter poi sviluppare l'arrangiamento come si vuole. Io ho deciso di svilupparlo in questa maniera, più o meno è come il disco, forse è meglio perché ho avuto la possibilità di avere musicisti straordinari, che dopo poi vi presenterò. E quindi ho pensato di fare questo brano che magari metterò nel prossimo album, che è nato così e sicuramente avrà uno sviluppo, non è molto arrangiato, però magari può servire per dare un'idea di come scrivo le mie robe. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.